Si classifica parziale Rossella con mi manchi, eccola qua Ma io mi parli l'anno scorso, è vero, io ti ho praticamente dovuta cercare in Facebook cioè ho dovuto fare delle ricerche perché chiaramente non avevo né il contatto direttamente né il contatto con via Facebook ma lei non su Facebook perché mi ha mandato la poesia, non sapevo di quale scuola era, chi era però il nome era familiare, sono andata a vedere sull'antologia ecco perché l'antologia è bella e c'era lei che alla terza media dell'anno scorso aveva vinto il terzo posto e quest'anno invece si è giudicato il primo direttore di Bartoletta, brava, brava, brava mi manchi, è una sensazione che entra nell'anima e mi tiene in cabine riboli di lacrime sul cane mio viso, come le mie parole scivolano su queste pagine bianche la tua mancanza insalzabile, il tuo ricordo, tormento dei miei pensieri la tua distanza, dramma dei miei giorni che latino di speranza tu, immensamente tu, squarci le mie deboli difese rendendomi fragile e leggera, come foglia sbattuta dal vento d'autunno un'immagine sdianita affiora nella mente, mentre una voce dalle viscere urla tu sei il mio vivere, mi manchi e mi manca la voglia di vivere se tu non sei con me la poesia, un ritmo sorprendente che segue affannosa la corsa della vita il veloce scorrere del tempo tra impegni, emozioni e sogni complimenti a voi